In tutta la regione cala sensibilmente il numero di contagiati e anche la nostra città resta in linea con i dati pugliesi. Al momento infatti Bitonto conta solo due positivi al Covid-19. Entrambi, riconducibili al focolaio dell'azienda siciliani, sono assistiti dall'Asla a domicilio. L'aggiornamento sanitario è stato fornito ieri dal sindaco Michele Baticchio, che durante la diretta Facebook ha annunciato anche tutte le novità che interesseranno i sercenti e i cittadini. Con un'ordinanza il comune di Bitonto ha strezzato l'occhio a parrucchieri ed estetisti, che da lunedì potranno riaprire e decidere anche di rinunciare alla giornata di riposo. La facoltà concessa permetterà di recuperare il tempo perduto e gestire al meglio l'ondata di clienti. Dovranno attendere invece il regolamento regionale palestre, scuole di ballo, oltre che bar e ristoranti, che potranno ancora effettuare solo consegne a domicilio o servizio d'asporto. Buone notizie poi per le ambulanti, che dal 26 maggio potranno tornare ad occupare le aree mercatali di Bitonto, Mariotto e probabilmente di Palombaio. Le misure varate da Palazzo Gentile permetteranno infatti di ripartire in sicurezza. Già dalla prossima settimana invece riprenderà la sosta a pagamento sulle strisce blu, il lavaggio delle strade e la viabilità ordinaria. Addio dunque alla pedonalizzazione di via Repubblica, via Mateotti e via Miraglio Vacca, ma il primo cittadino annuncia la partenza, ormai prossima, del senso unico su via Traetta. Chi vorrà passeggiare potrà usufruire della villa comunale, che riaprirà proprio dal lunedì prossimo dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. I nuovi orari sono a misura di runner e famiglie. Nell'area verde si potrà infatti fare solo attività motorie o passeggiate. Vietate le soste sulle panchine e l'uso dell'area ludica, che sarà interdetta. Per contingentare gli ingressi sono state già installate delle attrezzature. Sarà riservata un'entrata anche per disabili e carrozzine. Come sempre la raccomandazione è quella di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e di usare la mascherina. Abaticchio è inoltre raguagliato tutti sul pericolo 5G. Dall'attento studio condotto insieme agli esperti del Lancipuglia risulta infatti che il nostro territorio non sarà interessato dalle sperimentazioni. Tra i comuni pugliesi sarà coinvolta solo la città di Bari. I più tecnologici potranno però navigare velocemente con la fibra ottica, la cui installazione è tuttora in corso. I lavori stradali interesseranno anche altre parti della città. Saranno presto riqualificate infatti via Cela, il cui bando è già in pubblicazione, e via Castelfidardo e via Solferino. Per il lungo lama l'appalto sarà disponibile entro fine agosto.